Riprendiamo la chiacchierata, allora quindi dicevo leadership, coinvolgimento del personale, un'altra delle caratteristiche di orientamento al cliente, l'altro elemento fondamentale è l'approccio per processi, oramai abbastanza diffuso e in modo diverso di approcciare la gestione delle risorse, se appunto si ragiona per processi piuttosto che per funzioni, in sostanza quindi le attività e le risorse come dicevo devono essere gestite secondo un processo, quindi che cosa bisogna fare? All'interno di un'organizzazione bisogna innanzitutto individuare i processi e ovviamente gestire le risorse con riferimento ai principali processi del mio sistema. Che cos'è un processo? Che cosa si intende per processo? Il processo in effetti è qualche cosa, come definizione, è qualche cosa che noi già dovremmo conoscere, almeno abbiamo imparato a conoscerlo quando abbiamo parlato nell'ambito del corso di impianti industriali, di sistema e di processo all'interno di un sistema. è un insieme di attività correlate e interagente che utilizza risorse per trasformare elementi in entrata in elementi in uscita, cioè un processo potrebbe essere questo, quindi c'è un qualche cosa che avviene come abbiamo detto più volte, c'è un input che fa riferimento ovviamente a materie prime, componenti materiali, semilavorati o quant'altro, c'è un processo con un proprietario quindi del processo stesso e c'è logicamente un output con un prodotto, componente, materiale o semilavorato. bene, quindi ogni qualvolta io all'interno di un sistema un processo, cioè un qualche cosa dove ho impiego di risorse e c'è creazione di valore, bene, quello può essere considerato un processo e devo gestire le risorse secondo un processo. sapete, comunque immaginerete ovviamente che quando poi parlo di processi, i processi sono tra loro collegati e quindi è chiaro che un processo può essere visto come un insieme di processi, di sottoprocessi. Ad esempio, visto poi anche l'ora che si approssima quella di pranzo, parlando del processo preparazione di un piatto di pasta è chiaro che tutti quelli che sono processi collegati sono poi ovviamente interni, possono essere visti come interni a quel processo. Significa che c'è un riscaldamento dell'acqua, la dosatura degli ingredienti, l'aggiunta del sale, la cottura della pasta, l'aggiunto del condimento e il servizio in tavola. Ebbene, questo è un poco quello che costituiva e costituisce il processo precedente che avevamo visto, che porta cioè da ingredienti, l'input, i componenti, le materie prime a quello che è il prodotto finale. Questo approccio, l'approccio per processo, è l'approccio che viene richiesto all'interno della norma. Ma, dicevo, tenete presente che questo tipo di approccio viene richiesto oramai un po' dappertutto. Anche il Ministero, attraverso l'Ambur, chiede ad esempio alle università che la gestione avvenga attraverso quella che viene definita la mappatura dei processi. Cioè viene chiesta alle università, agli atenei, di fare una mappatura dei processi e di gestire le risorse secondo quella che è questa mappatura dei processi che viene realizzata. Quindi, ovviamente, la difficoltà sta nello spiegare alle persone, quindi a quello che è il personale tecnico-amministrativo, che è stato sempre abituato, per esempio, ragionare per funzioni, che cosa invece si intende per processo e quindi il fatto che non devono più considerare le funzioni che vengono svolte all'interno dei dipartimenti o dei vari uffici del rettorato, ma devono ragionare invece per processi. L'approccio, ovviamente, è un approccio, come dire, obbligato se ovviamente si vuole raggiungere la certificazione. L'approccio sistemico, che è ancora un altro degli elementi che caratterizza la norma e deve caratterizzare quindi i sistemi di gestione per la qualità, dice in sostanza che bisogna identificare, capire e gestire quindi quella mappatura dei processi che vi dicevo prima e quindi bisogna identificare tutti quelli che sono i processi all'interno di un sistema. È chiaro che quei processi sono tra loro collegati ed è chiaro che se io l'individuo, faccio questa mappatura, gestisco singolarmente i processi e poi, ovviamente capite bene, io posso avere un processo il cui output rappresenta l'input di un processo che sta a valle e questo ripetuto per un certo numero di volte mi rappresenta poi un macro processo costituito da tanti sottoprocessi. Bene, tutto questo, questo approccio, questo approccio sistemico contribuisce o dovrebbe contribuire all'aumento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema stesso. Io apro una parentesi su questo concetto di efficacia e dell'efficienza che oggi è tanto in uso e tanto diffuso, per cui spessissimo sento dire che bisogna aumentare l'efficacia e l'efficienza, però molte volte poi io chiedo per curiosità, dico ma è chiaro, ma che si intende per efficacia, per efficienza? Molto spesso si pensa che siano la stessa cosa, c'è che sia un modo per, attraverso soltanto una terminologia diversa, indicare la stessa cosa. Allora, apro la parentesi e la chiudo subito, logicamente, efficacia ed efficienza, molto semplicemente, ma per curiosità vostra, sono due termini che indicano due cose diverse. È chiaro che l'efficacia e l'efficacia vanno misurate rispetto al raggiungimento di un obiettivo, ma è chiaro che l'efficacia e l'efficienza misurano in maniera diversa il modo in cui arrivo all'obiettivo. Quindi è chiaro che se io fisso un obiettivo e raggiungo l'obiettivo posso essere efficace, efficiente, perché sono stato bravo e ho raggiunto l'obiettivo, ma come ci sono arrivato? Questa è la differenza. Bene, l'efficacia è la capacità di raggiungere l'obiettivo, l'efficienza è il modo in cui ho raggiunto l'obiettivo utilizzando al meglio, logicamente, quelle che sono le risorse e quindi l'efficienza è legato al fatto che io ho raggiunto l'obiettivo utilizzando al minimo le risorse. Quindi questa è l'efficienza. Molto semplicemente immaginate una situazione di questo tipo, punto di partenza, obiettivo fissato. Allora devo arrivare all'obiettivo, ci arrivo attraverso una strada più o meno tortuosa che questa. Allora, ho raggiunto l'obiettivo? Sì, sono stato efficace, ma sono stato efficiente? No. Perché? Perché evidentemente se considero la linea retta che unisce logicamente il punto di partenza e il punto di arrivo, quella probabilmente è la strada a cui associerò il minore impiego di risorse, il minimo impiego di risorse e quindi in questo caso sono efficace, ma non efficiente, in questo sono efficace ed efficiente. Va bene, è giusto per chiarire questo concetto di efficace ed efficienza, a cui in qualche modo si fa implicitamente riferimento attraverso un approccio che, ripeto, è sistemico. L'approccio sistemico, quindi lo stavo dicendo anche prima, è l'approccio secondo il quale io considero i vari processi, ogni processo caratterizzato da un input e da un output con output di un processo che può essere considerato input di un processo a valle, bene, considerando l'approccio sistemico significa quindi implicitamente, necessariamente, considerare un approccio per processi e quindi considerare poi tutti i processi tra di loro collegati e quindi facendo parte di un sistema ovviamente molto più grande, che sarà poi alla fine caratterizzato da un input e da un output e da tanti poi sotto input e sotto output che fanno riferimento ovviamente ai singoli processi. Sesto punto che caratterizza la norma, la ISO 9001, è un approccio di tipo continuativo e di miglioramento continuativo. In sostanza questo si traduce nell'applicazione di quello che è la logica del miglioramento continuo o del PDCA, Plen, Do, Check e Act. Qual è l'innovazione in sostanza che viene portata con questo metodo? L'innovazione parte, logicamente, per l'approccio al problema, parte dal presupposto che dicevamo prima la qualità, non esiste un valore massimo della qualità, cioè quindi non posso pensare di aver raggiunto un determinato valore, un determinato livello di qualità e quindi di aver raggiunto il massimo quindi quello rappresenta uno stato finale, l'obiettivo che io devo raggiungere. No, la qualità è sempre migliorabile e di fatto nella norma, ma poi anche nella pratica, nei sistemi, si parla di miglioramento continuo. Come lo posso attuare il miglioramento continuo? Bene, il miglioramento continuo può essere attuato, può essere applicato proprio attraverso l'impiego e l'attuazione di questo principio che prende il nome appunto di ruota di deming proprio perché, come vedete, è una specie di ruota dove ovviamente attraverso l'attività di check, di controllo io posso ritornare ovviamente sulle fasi precedenti. In che modo? Allora, attraverso la fase di pianificazione, di plan, quindi io posso pianificare qualche cosa la fase successiva è quella dell'esecuzione, quindi il do, faccio qualche cosa, quindi realizzo quello che ho pianificato bene, a questo punto che cosa faccio? Per poter migliorare, per poter andare avanti che faccio? Fatto quel qualche cosa vado a fare un check, vado a fare un controllo vado a vedere come sono andate le cose effettivamente, quindi rispetto a quello che mi ero previstato di fare se ci sono margini di miglioramento, se il ritorno da parte dei clienti è stato positivo se ci sono delle cose che non sono andate bene, bene, questo è il check, quindi un test, un controllo sui risultati, sui riscontri avuti da parte del cliente. E che me ne faccio di questi dati? Questi dati li utilizzo per implementare un'azione successiva che è di miglioramento quindi l'act, intervengo a valle del check attraverso delle azioni che io ovviamente definisco per migliorare il processo che ho realizzato. E quindi, capite bene, una volta plan, do, check, act che cosa faccio? A quel punto ripianifico di nuovo sulla base dei risultati attuo di nuovo quello che ho pianificato e faccio un nuovo check e di nuovo procedo con azioni di miglioramento. Secondo questa logica, capite bene, se io percorro questa ruota secondo la logica giapponese in questo modo è come se mi portassi automaticamente a un livello più alto è come se facessi un piccolo miglioramento. Infatti questo miglioramento continuo a piccoli passi i giapponesi lo chiamano Kaizen, quindi è il miglioramento a piccoli passi che viene auspicato in tutti i sistemi e in tutte le organizzazioni e può essere attuato soltanto attraverso l'attuazione, attraverso l'adozione di quella che appunto viene definita ruota di Deming o principio del PDCA, plan, do, check e act. Si legge solitamente che a parte il PDCA si legge molte volte anche di quello che viene definito il miglioramento continuo o la spirale del miglioramento, che altro non è che questo cioè in effetti qui vedete vi avevo semplicemente esploso e dettagliato quelle che sono le quattro fasi principali plan, do, check e act, ma il risultato è lo stesso. La spirale perché? Perché in effetti vedete io parto sempre da quella che è una ricerca di mercato, sviluppo un prodotto, lo progetto, programmazione, mi rifornisco logicamente di quelli che sono i componenti, vado in produzione, vendo il prodotto o il servizio, che faccio a quel punto? Venduto il prodotto o servizio, check, vado a fare un controllo sulle vendite per vedere se poi il cliente o i clienti sono rimasti soddisfatti del prodotto o del servizio che ho erogato. State certi, ci sarà sempre qualcuno che è rimasto parzialmente contento o completamente insoddisfatto o che dir si voglia. Quindi il feedback serve, il feedback serve perché sulla base del feedback attuo delle azioni e ripeto quindi la mia spirale. Quindi però parto già da un livello più alto, quindi già in questo modo attraverso questo percorrimento dell'aspirale una prima volta, sono salito, quindi ho percorso una spira e sono salito di livello. Riparto con la ricerca di mercato, ripeto tutte le fasi, feedback, sono salito ovviamente di un'altra spira e comunque il livello di qualità che in quel caso ho raggiunto è comunque più elevato rispetto al livello precedente. Quindi, miglioramento continuo, è un altro concetto che è alla base di tutti i sistemi prodotti. Miglioramento continuo, questa slide e questa figura che hanno trovato ma comunque spiega in maniera molto semplice che è logicamente quello che poi è il concetto che è alla base del Kaizen, che appunto è un cambiamento continuo. Per piccoli passi, i giapponesi distinguono il Kaizen, che è il miglioramento a piccoli passi, dal Kairio, che invece è il miglioramento a grandi passi, che sono invece i miglioramenti di tipo strategico dove ovviamente vengono attuati una volta ogni tanto, ma consentono logicamente di porci automaticamente a livelli già molto più alti rispetto ai piccoli miglioramenti che si hanno con il Kaizen. Quindi Kaizen e Kairio. L'altro punto, il penultimo della norma, della 9001, è decisioni basate su dati di fatto. Quindi, quello che bisogna cercare di fare all'interno di un'organizzazione, all'interno di un sistema è cercare di raccogliere dati e informazioni. Guardate, è una cosa questa fondamentale, molto spesso le aziende non hanno dati e quindi come tecnici, come ingegneri, molte volte ci si trova a dover lavorare sul valo, sul non certo. Allora, è chiaro che se io devo prendere delle decisioni, delle decisioni efficaci, io devo avere i dati, ma i dati devono essere affidabili, devono essere certi, ci devono stare. Cioè, quindi se devo prendere delle decisioni in merito, i dati logicamente più frequenti che non si trovano sono quelli relativi ai costi, ai costi di materie prime o della manodopera o di quant'altro. Se devo prendere delle decisioni, ma mi dovete dare i dati, no? Non c'è alternativa e quindi decisioni basate su dati di fatto devo avere necessariamente come base di partenza dei dati affidabili. L'ultimo punto è relativo al rapporto con i fornitori. I fornitori, ovviamente, devono essere fornitori affidabili, devono essere fornitori che devono essere coinvolti nel processo di produzione. La tendenza è quella di ridurre il numero di fornitori. Ma ridurli perché? Semplicemente perché è meglio averne pochi e quindi coinvolti nel processo che sto realizzando piuttosto che averne tanti e sceglierli soltanto sulla base del prezzo che mi applicano. Per cui se poi ce n'è uno che mi fa un prezzo più basso, lascio lui e vado da un altro perché mi ha fatto il prezzo più conveniente. I fornitori devono necessariamente essere fornitori affidabili, devono essere coinvolti nel processo, devono essere informati di quello che sto facendo perché soltanto in questo modo, informandoli, potrò e potranno darmi quello di cui effettivamente ho bisogno e quindi perfettamente rispondente a quelle che sono le mie esigenze e le mie aspettative. Per concludere, la struttura della ISO 9001 è questa e di fatto la norma che cosa fa scende poi nel dettaglio di tutti questi punti noiosissimi e quindi certamente non sto qui a dirveli, mi interessa comunque che vi siate fatti un'idea e spero che si chiarisca comunque quest'idea poi con il seminario che avevo organizzato. Allora, la norma semplicemente dice con riferimento a tutti questi punti che cosa bisognerebbe anzi, a parte logicamente, vedete questi primi 4 punti che non sono importanti, introduzione, scopo e campo di applicazione, riferimenti normativi, termini e definizioni, bene, dal quarto punto comincia a essere un pochettino più importante e impegnativo. Allora, sistema di gestione per la qualità, responsabilità della direzione, gestione delle risorse, realizzazione del prodotto, misurazione, analisi e miglioramento. D'accordo? E questo, quello che io, con riferimento a questi punti, è quello che io devo andare a scrivere nel manuale. Cioè nel manuale io devo dire il mio sistema di gestione per la qualità, come è, quali sono le mie politiche, quali sono i miei obiettivi, le responsabilità all'interno del mio sistema, individuate queste responsabilità attraverso innanzitutto i processi, per ciascuno dei quali devo trovare dei responsabili, devo dire come gestisco le risorse, come realizzo il prodotto e qui a prescindere, quindi la norma non mi dice guarda che c'è una norma come vi dicevo per le mozzarelle o la norma per chi fa le camicie o chi fa i mobili, è completamente generica la norma. È chiaro che nel processo io devo andare a dire, quindi devo andare, ma sempre con rispetto a quello che mi chiede la norma, ricordatevi che la certificazione, che è quella alla quale io sto puntando, è in qualche modo dimostrare che opero conformemente a quanto stabilisce una norma. Quindi la norma non se ne importa se io faccio quindi, ripeto, mozzarelle, macchine o altri prodotti. Mi dice soltanto guarda che devi avere un approccio che tiene conto ovviamente di tutti quei punti che abbiamo detto, quegli otto punti che abbiamo visto in precedenza e ovviamente devi prendere in considerazione questi aspetti. L'ultimo è quello proprio misurazione, analisi e miglioramento, cioè per poter attuare quel miglioramento continuo di cui vi stavo parlando prima, è chiaro che io devo avere e devo fare delle misurazioni, devo avere degli indicatori che li devrò definire io, perché altrimenti io come faccio a sapere se il processo sta andando bene o sta andando male. Sulla sorta degli indicatori che avrò definito io potrò dire sto andando bene, sto andando male, devo fare di più, devo fare di meno e logicamente le conseguenti azioni e il miglioramento che deve essere accuato. Questo schema è lo schema che ho preso pari pari dalla norma. Vi dico ovviamente che cosa significa e cosa rappresenta e il concetto di miglioramento continuo. Come vedete ci sono in testa ovviamente a quello che è il mio sistema, c'è un cliente e ovviamente un cliente a valle del sistema stesso. Che cosa succede? Allora il cliente e altre parti interessate ovviamente, che potrebbero quindi genericamente indicate sotto il nome di cliente, che cosa mi danno? Mi danno e mi definiscono logicamente i requisiti che il prodotto o servizio che io devo realizzare deve avere. Dopodiché c'è una sorta di processo che viene realizzato che come vedete include tutte quelle fasi di cui abbiamo parlato in precedenza, tutti quei punti della norma che abbiamo visto in precedenza. È chiaro che c'è una realizzazione del prodotto, elementi in entrata con elementi in uscite, quindi un prodotto o un servizio che viene erogato. Dunque c'è una responsabilità della direzione, una gestione delle risorse e come vi dicevo delle misurazioni. Misurazioni che ovviamente possono essere effettuate sia attraverso la definizione di quelli che sono degli indicatori interni al sistema, sia degli indicatori che ovviamente prendono i dati dall'esterno, quindi al termine vedete qui ci sta ancora una volta il cliente, colui che utilizza il prodotto finale. E che mi deve dire poi effettivamente quel prodotto o servizio se ha soddisfatto in qualche modo le sue aspettative, le sue esigenze. Quindi legato alla soddisfazione qui vedete c'è una doppia freccia ovviamente perché sono e possono essere il livello, il grado di soddisfazione, elementi di input per la fase di analisi e miglioramento. In questo modo logicamente io posso pensare di attuare un processo di miglioramento e operare in conformità a quello che dice la norma. La nuova edizione della norma, la 2015, si differenzia un po' dalla vecchia ma questa diciamo la nuova è un pochettino più snella per certi aspetti ma questa è quella che ancora ad oggi è maggiormente diffusa, ovviamente con la nuova norma a breve le aziende che hanno ottenuto la certificazione con la vecchia dovranno adeguarsi alla nuova norma ma la comprensione è molto più facile se ovviamente come in questo caso abbiamo parlato prima di questa e quindi andando a guardare la 2015 certamente dovrebbe risultare molto più chiara piuttosto che un primo approccio. Allora, questo per quanto riguarda la norma, quindi la ISO, il discorso della certificazione, quindi abbiamo fatto un discorso di carattere generale, quindi sulla qualità dando ovviamente delle indicazioni su quelle che sono le definizioni di qualità e l'evoluzione del concetto di qualità e quindi in effetti siamo partiti da una qualità di prodotto per arrivare almeno concettualmente a una qualità di processo attraverso una funzione che è il controllo di qualità e attraverso logicamente quello che è l'impiego degli strumenti statistici per il miglioramento della qualità fino a una qualità di sistema che è il concetto ovviamente oggi diffuso ripeto e sottolineo ancora una volta questo aspetto quando si parla di qualità di sistema tenete presente che la qualità di sistema del mio sistema di gestione non ha nulla a che vedere con la qualità del prodotto io posso avere un certificato, posso certificarmi ISO 9000 ma capite bene che la certificazione ISO 9000 dice soltanto che io opero conformemente a quanto scritto nella norma il prodotto non c'entra niente, come niente c'entra il servizio io posso fare e realizzare un prodotto fallimentare, un prodotto che è una schifezza e che nessuno si compra eppure posso essere certificato ISO 9000 perché la ISO 9000, la 9001 fa riferimento esclusivamente al sistema di gestione della qualità, cioè la norma mi dice come dovrei operare come sistema, io opero conformemente a quello che dice la norma, allora quello che solitamente si dice dice vabbè ma se tu operi conformemente alla norma il prodotto deve essere per forza di qualità, non è vero perché il prodotto può essere anche un prodotto non di qualità, forse credo di avermi già detto più volte il classico esempio del salvagente di cemento che io mi metto e vado a fondo logicamente e annego con tutto il salvagente che quindi non assolve la sua funzione, quella di tenermi a galla, quindi un prodotto non di qualità però il sistema è certificato ISO 9000, quindi diffidate dei prodotti, dice ma il mio prodotto è certificato, molte volte le acque minerali se vedete spessissimo hanno il marchietto, la coccarda ISO 9000 e dice siamo certificati ISO 9000 ma mica il prodotto, è del sistema e non c'entra niente logicamente con quello che è il prodotto. E qui chiudo la parte di certificazione e quindi cominciamo, perlomeno mi comincio a dire qualche cosa su quelli che sono per l'appunto gli strumenti per il miglioramento della qualità. Quando Juran e Deming andarono in Giappone invitati come vi dicevo dal Giuse, vi rubo giusto pochi minuti giusto per introdurre la prossima lezione, ma comunque cominciarono a parlare ovviamente di quello che sapevano, cioè di alcuni strumenti che loro conoscevano bene, le carte di controllo, cominciarono a parlare di quelli che erano gli histogrammi che in qualche modo potevano essere utilizzati, diagrammi e altri tipi di diagrammi e di strumenti che vedremo nel dettaglio. L'approccio giapponese vincente fu proprio questo, cioè quello di utilizzare degli strumenti di cui erano a conoscenza gli occidentali, tranne qualcuno, il diagramma causa-effetto certamente non si deve agli occidentali ma ne parleremo, ma utilizzare questi diagrammi e questi strumenti finalizzati al miglioramento e al controllo del processo e la logica è molto semplice Allora, i sette strumenti di cui parleremo sono per l'appunto questi. Allora, il primo è il foglio di raccolta dati, poi parleremo di histogrammi, poi di stratificazione, quindi di diagramma di paletto, ancora diagramma causa-effetto, diagramma di diagramma di shikawa, ancora di correlazione e infine carte di controllo, che possono sembrare slegati tra di loro, ma c'è una logica e la forza dei giapponesi fu proprio questa, cioè quella di utilizzare degli strumenti, alcuni introdotti da loro, ma altri esistenti, già esistenti, ma finalizzandoli a qualche cosa, dice guarda che se tu questi li utilizzi secondo una logica e secondo una certa sequenza, e beh, dei risultati li puoi avere, perché se tu raccogli dati, anche quello che dice la norma, bisogna avere dei dati di partenza che siano affidabili, allora cominci a raccogliere i dati, allora ti dico innanzitutto come puoi raccogliere questi dati e quali sono i supporti e le modalità di raccolta dei dati, perché tu poi questi dati li possa leggere in maniera chiara, histogrammi, vediamo di far parlare questi dati, riportiamoli su carta, su di un diagramma, così da avere una rappresentazione grafica di questi dati e interpretare i dati, se ci sono eventualmente andamenti strani, andamenti particolari, lo vedremo, applica un'altra tecnica che è la stratificazione, che significa raggruppare i dati per gruppi omogenei, ma lo vedremo, dopodiché una volta che hai rappresentato questi dati, cerca di capire quali sono quelli di maggiore importanza e quali sono gli aspetti che sono per te di maggiore importanza e quali sono quelli di minore importanza, che fanno e in qualche modo possono influenzare il processo. Bene, cerca di capire per quelli di maggiore importanza quali sono le cause legate a quell'effetto. cerca di capire l'entità del rapporto attraverso la correlazione e poi segui il processo attraverso le carte di controllo che mi dicono di fatto con riferimento a quella che può essere una grandezza di solito qualitativa del processo come varia questa grandezza nel tempo e quindi seguire l'andamento di quella caratteristica, di quella grandezza questi sono gli strumenti di cui noi parleremo e di cui ovviamente tratteremo nelle prossime lezioni quindi li tratteremo nell'ordine cercando di ricordarvi sempre che questi strumenti hanno una loro logica e una loro conseguenzialità quindi vanno applicati nell'ordine è chiaro che poi ne posso applicare alcuni anche in maniera spot ma dopo e scontato ovviamente che ci ho i dati o qualcuno in precedenza ovviamente abbia fatto altro ok va bene ragazzi io mi fermo qui